ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto particolare perché è un tag una specie di tag quindi metterò gli occhiali perché devo essere più seria allora per quanto riguarda questo video che si chiama colori accessori preferiti primavera ma io farò primavera in estate visto che lo sto facendo adesso questo video ovviamente io sono stata taggata per questo video ovviamente sono stata taggata da una grandissima mia amica che è Antonella del canale consigli di Antonella Doss quindi ovviamente vi metterò il link del suo canale perché è stata lei a taggarmi quindi mi farebbe molto molto ma molto ma molto e dico molto ma molto 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 piacere se andasse a vedere il suo video perché è molto interessante ovviamente perché non mi è una tomba non è vero allora lasciamo perdere queste cretinate e andiamo avanti con il video allora qui vi faccio vedere tutte le cose che riguardano i colori gli accessori per quanto riguarda la primavera estate allora non ho tante cose da farvi vedere nel senso di foulard e altri tipo di oggetti vari perché io utilizzo pochissime cose quelle che utilizzo li vedete spesso per non dire sempre nei miei video la prima cosa che vi faccio vedere sono gli orecchini questi sono gli orecchini che indosso questo è con la croce che mi è stato regalato dalla mia migliore amica perché è questo orecchino ce l'abbiamo uguale identico quindi l'abbiamo comprato nello stesso posto proprio per avercelo identico e poi ho acquistato questi altri due orecchini sempre con questa forma perché è la forma che mi piace di più ed è la forma che riesco a tenere sempre 365 giorni all'anno io li cambio soltanto quando ho delle cerimonie particolari e molto spesso alcuni orecchini me li fa mia sorella che vi taggherò perché lei ha anche una pagina instagram dove fa degli orecchini particolari vi metterò la foto del compleanno di mio figlio che indossavo proprio gli orecchini fatti da lei perché avevo i capelli tutti tirati da un lato e quindi avevo un orecchino abbastanza grosso in uno e l'altro più sottile sapete che si usa questa forma di orecchini e quindi li ho fatti fare apposta da mia sorella e mi ha fatto proprio quelli e mi piacciono tanto ce l'ho sotto perché li ho conservati gelosamente poi un altro orecchino che non tolgo mai è quello il piercing che ho qui nella parte alta dell'orecchio speriamo che ho le orecchie pulite perché non ho controllato che è questo che mi piace tantissimo scusate tolgo gli occhiali perché mi gira la testa cioè non hanno non hanno vetri ma mi gira la testa non lo so perché comunque questo è l'altro orecchino e quindi e diciamo sono gli orecchini che io di solito utilizzo in una forma più assoluta allora l'altra cosa che vi faccio vedere che io non tolgo mai proprio assolutamente mai sono le collane queste collane sono state fatte apposta per me per la mia migliore amica perché ce le abbiamo uguale identiche noi in poche parole siamo sorelle gemelle di genitori diversi questa è la nostra filosofia perché la maggior parte delle cose ce le abbiamo identiche uguale di misure diverse ovviamente questa è una collana che abbiamo fatto fare da una ragazza che ha anche lei una pagina su instagram quindi ve la taggerò anche lei e fa questo tipo di collane fatte apposta per per farle simili o per fare delle delle come si dice delle posizioni tipo che vi piacciono tipo noi abbiamo fatto le tre collane per tre versioni e vi faccio vedere questa allora per prima cosa più di così non scendiamo varo allora per prima cosa ci sono le stelline perché il nostro simbolo è una stella perché tutte e due abbiamo una persona noi cara che per noi è la nostra stella quindi questa è questa diciamo la la cosa che ci identifica poi queste sono delle bamboline cioè delle bamboline sono delle due due bambine con il quadrifoglio per portare fortuna quindi queste due siamo io e lei per portare fortuna e qui c'è una placchetta dove c'è scritto ciccina che sarebbe il nostro nome il nostro nomignolo perché noi ci chiamiamo ciccina infatti questo dovrebbe essere un tatuaggio ma abbiamo preferito fare la targhetta perché ci identifica di più perché poi abbiamo anche fatto il tatuaggio non ve l'ho mai fatto vedere ci abbiamo fatto questo tatuaggio identico quindi è un'altra cosa che ci identifica poi io ho questa collana che mi è stata regalata da katy moda da una ragazza katia sempre sotto richiesta lei è stata a me giugori sono mi sbaglio sono mi sbagliosi a me giugori e mia no scusate all'ord all'ord e gli ho richiesto questa collana perché è stato un periodo abbastanza brutto e vi può sembrare una cosa fatta così ma stavo veramente male fisicamente emotivamente era un periodo no e questa collana diciamo mi ha fatto passare un periodo in cui avevo fitte in cui avevo una pesantezza sul petto che non vi lascio immaginare e sinceramente questa mi ha aiutato quindi questa non la tolgo mai io faccio la doccia ma questo poi la rimetto subito in automatico non me la deve toccare nessuna a mio nipote sembra gli sembra ogni volta che sia quelle collane con le caramelle da mordere ogni volta gli dico no noemi non è una collana che si mangia perché se fosse per lei l'avrebbe già mangiato poi un'altra cosa che mi vedete spesso che io adoro in assoluto sono i bracciali si è bracciali questi così questo mi è stato regalato da mio figlio carmelo dove ci sono i leoncini poi ho l'orologio che è quello che porto e c'è il mio viso stampato questo è sempre stato un regalo della mia migliore amica e poi tutti i bracciali che io adoro in assoluto perché li metto sempre sono queste qua in acciaio poi altri bracciali che io amo in assoluto sono quelli della Ops che sono questi perché hanno anche un profumo pazzesco e io questo ad esempio questi accessori che vi faccio vedere li differenzio perché in base a come sono vestita li indosso questo è uno è sempre un bracciale della Ops ovviamente originale mi piaceva tantissimo perché è blu il colore che preferisco e poi con questa tutta trama con i quadretti mi piace tantissimo uno è questo l'ho indossato pochissime volte sinceramente perché ho avuto altri bracciali da utilizzare questo è l'altro che questo proprio è il mio colore in assoluto molto spesso li utilizzo assieme ed è questo con questo colore che dà sul viola ed è stupendo veramente stupendo questi sono i due bracciali che utilizzo di solito li utilizzo anche in combo poi vi faccio vedere tutti gli altri bracciali che io utilizzo che sono questi e sono della linea O-Bag io ho anche le due borse dell'O-Bag e questi sono i bracciali che io di solito utilizzo che sono a forma di fiore a me i fiori non piacciono però messi qua mi piacciono tantissimo e sono questi e vi faccio vedere i colori che io posseggo li usciamo tutti questo è quello beige poi abbiamo il blu poi abbiamo il malva questi di più li utilizzo in estate perché mi viene più facile si vedono anche tramite i maglioni quindi arancione verde in base ovviamente a come sono vestita e verde chiaro questi sono tutti i bracciali dell'O-Bag che io posseggo perché mi piacciono tantissimo quindi in base a come sono vestita io li utilizzo e questi li adoro in assoluto perché li mettete poi li posate perché sono facili sia da mettere che da togliere e quindi adoro questi poi per finire vi faccio vedere gli anelli allora per quanto riguarda gli anelli gli unici due che mi vedete sempre sulle mani in questo periodo sono gli anelli che mi sono stati regalati dai miei figli gli altri si li metto ma quando esco perché mi è capitato di perdere un anello dentro il lavandino perché quando sono dimagrita mi è proprio uscito dal dito e è andato dentro il lavandino quindi questi sono quelli che non escono nemmeno se li ammazzi e quindi questi li tengo è come tipo se portassi la felina per quanto riguarda i miei figli e loro mi hanno regalato sono tutti della pandora del marchio pandora e sono questo che è la corona la chiara ovviamente tutti argento cioè di oro bianco non lo so se si dice argento oro bianco ed è questa e poi l'anello che io desideravo tantissimo mi è stato regalato dai miei figli per il mio 40esimo compleanno per i miei 40 anni ed è questo di oro rosa e ha la forma dei cuoricini uno opaco e uno brillantinato quindi per dire tipo che sono i miei figli no ed è molto molto bello non so se si vede se riesce a vedere ecco ecco qua questi sono i miei anelli e questi sono quelli che io utilizzo di più poi vi faccio vedere tre anelli che ho preso con la cosa prendi tre era prendi tre e paghi due sì uno era il regalo erano scontati e poi in base a quanti ne prendevi quello che costava diciamo di meno ti veniva regalato ma curiosità molto affascinante io l'ho preso con tutte le loro stesse prezzo quindi uno era il regalo il primo che vi faccio vedere ed è quello che io utilizzo voglio utilizzarlo su questo dito però ve lo faccio vedere forse si vede meglio anche qua dentro ed è questo ed è un un intreccio lo faccio vedere da vicino si vede? è un intreccio tutto di di rametti non so come dirlo tipo sono dei ghirigori è una la forma ovviamente dell'anello e poi ci sono tutti i ghirigori tutti attorno ed è molto molto bello mi piace tantissimo e questo io lo indosserò nel pollice indice nell'indice non mi ricordavo non mi ricordavo come si chiamava il dito poi un altro che ho preso questo invece lo utilizzerò sempre nel dito pollice indice nell'anulare ed è questo che è un anello a forma di palline che formano un fiore che formano dei fiorellini anzi ed è questo ed è molto molto bello e mi piaceva perché è molto fine molto delicato quindi mi piaceva come anellino per quanto riguarda l'anulare e poi il terzo che è sempre per la parte diciamo dell'indice ho preso questo che è un filo con tutti intrecciati dei cuori ed è molto molto bello spero che si vedano ovviamente se non si vedono bene poi vi metterò la foto ed è molto molto bello anche questo questi sono per quanto riguarda gli accessori perché è inutile farvi vedere borse perché io li cambio in base a come sono vestita super giù gli accessori che io utilizzo sono questi poi ovviamente i miei occhiali che non sono questi perché mi manca la lente e niente ragazzi che dirvi questo è il video spero ovviamente che vi sia piaciuto spero che i miei acquisti i miei acquisti sì sono abituata spero che i miei accessori vi abbiano diciamo fatto anche sorridere perché sono delle cose molto molto colorate molto carine anche da vedere e niente queste sono tutte le cose che a me piacciono per quanto riguarda la primavera estate anche se tutto il resto io lo tengo per tutto l'anno quindi 365 giorno all'anno io ringrazio tantissimo e dico tantissimo Antonella del canale i consigli di Antonella 2 quindi seguitela vi raccomando e niente che dirvi ragazzi se io vorrei taggare Irene dal canale Irix in the Wonderland che ha due canali ricordate ha due canali anche Irix e Farnelli vi raccomando e a chi posso taggare vediamo questa volta prenderò il mio cellulare e vediamo a chi posso taggare andiamo nei commenti così da vedere chi posso taggare allora taggo Tamara Mondodonna perché Betty è stata taggata anche da Antonella se non mi sbaglio poi Chiara Chiara Life è diventata mamma quindi auguri Chiara un grosso bacio poi ce ne sono tantissime perché non voglio fare un torto a nessuno taggerò Eleonora Mocio perché è una ragazza che seguo tantissimo e mi fa tanto sorridere è una ragazza veramente semplice ma che fa dei trucchi a cui di pop pop a bomba chi vuole osare guarda i suoi video e oserà oserà e e Saramagic Saramagic taggo anche te quindi queste sono le persone che io taggo spero ovviamente che faranno il video e che nomineranno anche Antonella perché è stata lei se mi sbaglio che ha fatto uscire questo video quindi è giusto anche ringraziare le persone che diciamo fanno il video io vi mando un grosissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va ci vediamo al prossimo video io sempre qua sono ciao 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 ciao